in diretta su youtube facebook nel nostro dojo e quindi ci state vedendo man mano che entrate fate un commento fate un battete un 5 ddc che è tutto ok che state vedendo questa diretta che siete carichi perché oggi oggi si parla di un tema di quelli super tech in cima ovviamente che interessano a tanti a molti abbiamo la seconda puntata la seconda puntata di questa rubrica all you can ask allora non vedo i vostri iea per cui scriveteci man mano li vediamo i vostri commenti e soprattutto preparate le vostre domande perché oggi è una puntata super super interattiva ecco ciao andrea state entrando tutti quanti vediamo pian pianino arrivano i commenti che è tutto a posto ciao edica edy academy e ecco qua grazie alla regia che ci mette in sovraimpressione le vostre le vostre domande perché quindi oggi rispondiamo alle domande e subito quindi 40 minuti da adesso una fino all'1 e 40 circa stiamo insieme e chiamo subito con me un amico grande professionista l'autore di un libro adesso ci dirà mi sembra sia il secondo il terzo il quarto libro di marco magnaghi che che chiamo e che chiaramente è cifo digital officer di wave maker un grandissimo centro media una grande agenzia eh di comunicazione come stai marco un libro ci ha unito eh in passato un libro ci insomma ci fa compagnia un tuo libro bene molto bene grazie ciao a tutti si era il 2014 quando presentavo il mio primo libro eh sul palcoscenico di un corso ninja ed è stata la primissima collaborazione insieme e poi da lì abbiamo iniziato a fare i corsi insieme e mi fa piacere aver scritto prima in manuale avevo scritto il capitolo sulla digital advertising nel manuale che dovreste avere lì dietro lo intravedo eccolo lì da quel capitolo poi abbiamo deciso mi avete proposto accolto molto volentieri la appunto la proposta di scrivere un libro dedicato al tema dell'advertising yes che voi avete descritto con questo ciuffo detto che io ho tutto tranne che i ciuffi c'è un'onda in testa ma surf ci ho provato con scarsi risultati ma i capelli proprio quali sono andati via quindi no a parte i scherzi l'obiettivo del libro è quello di raccontare come pianificare al meglio in maniera integrata i singoli canali perché poi siamo sempre tutti molto bravi nel fare facebook google search a pagamento se via dicendo ma l'obiettivo del libro è quello di raccontare come integrare al meglio i diversi canali avendo anche il coraggio talvolta di dire scarico del budget da un canale e doppio budget a un altro canale perché è una cosa difficile questa adesso adesso lo vediamo vediamo con ci sono già molte domande che sono arrivate nei giorni scorsi quindi iniziamo subito poi da queste domande ovviamente vi ricordo che il libro di marco magnaghi che vedete qui e che sta per essere stampato molti ci chiedono ma stampate o non stampate stampiamo vi confermiamo che stiamo per andare in stampa quindi presto lo riceverete tutti quelli che hanno comprato il corso advertising boss di cui marco è docente riceveranno il libro ma il libro è ovviamente sarà è acquistabile già da ora sul sito di dell'editore flacoschi che saluto ciao enrico che insieme a noi ninja books ha realizzato ha curato l'edizione di questa collana quindi si può comprare anche anche slegato dal corso ma ovviamente vi consigliamo di invece di di acquistare il corso perché il libro è compreso e in più ci sono tante altre cose che potete poi vedere direttamente nelle demo interattive del corso quindi tutti quelli che hanno comprato anche il master in digital marketing ricevono anche anche loro il libro advertising boss perché ne ricevono anche altri altri cinque insieme che fanno parte di questa bellissima collana nostra prima collana del in digital marketing insomma bello diventare anche editori bene a questo punto io inizia inizierei subito con le domande questo si chiama all you can ask quindi tu sei il protagonista marco di questa di questa sessione e inizierei subito dalla domanda dalla prima domanda di la vigna giangreco non so se era quella che aveva presente preparato anche la regia anzi prima ti faccio ti faccio io una domanda magari prima di partire dici quali sono secondo te le caratteristiche di un buon di un buon planner allora sicuramente la preparazione sulle singole piattaforme quindi ci sta che il planner sia esperto di una piattaforma o di una disciplina in particolare quindi può essere facebook ads può essere google ads può essere qualsiasi piattaforma però la caratteristica di un buon planner è capire come funzionano anche gli altri strumenti che magari in azienda usano altri o su cui c'è minor dimestichezza da da un lato e dall'altro anche la capacità analitica il fatto di dire al di là che ho avuto tanti o pochi click tanti o poche interazioni ma poi qual è il risultato finale la vendita la visibilità del mio sito la visibilità del mio video alla fine mettendo insieme tutte queste dimensioni ho portato un risultato positivo negativo alla mia azienda la mia realtà e quindi io noto che alle volte siamo tutti bravi a fare provoco sempre no siamo tutti bravi a fare delle instagram story o dei bei gli annunci anche lato search ma poi dicevo che ma ha venduto no la campagna non lo so non era questo l'obiettivo la vendita chiaro ci sta che da una storia non vendi subito però ci sta anche capire quali sono gli step successivi nel momento in cui mostro un contenuto oppure no e trovo che la capacità analitica sia una delle qualità delle competenze che spesso mancano e planner motivo per cui insistiamo molto anche nel libro su questi aspetti sì questo è un tema che sicuramente tocchiamo oggi e ovviamente aggiungo marco se posso un buon planner si basa appunto sull'analisi dei dati oggi per esempio parlavamo tra di noi rispetto a una promozione che stiamo facendo mandiamo due dem o una dem e io ho consigliato a ricco di mandare due dem non è ricco il nostro head of digital enrico mi ha detto guarda che l'altra volta ne abbiamo mandato i due e questi sono stati tassi d'apertura proviamo a farne mandarne una sola con entrambi i messaggi vediamo come va gli ho detto bene cioè se ti risponde uno così se un come dire del tuo team ti risponde con dati alla mano ovviamente ha ragione lui cioè nel senso ha dei dati che supportano le sue argomentazioni bene passiamo alla domanda di la vigna gian greco che chiede appunto il tuo parere io ce l'ho qua quindi le posso leggere il tuo parere sull'efficacia della presenza in rete dei centri commerciali italiani forse lei lavora in questo settore e se hai anche un parametro internazionale rispetto a questo tema sull'efficacia della presenza in rete ma non ho capito bene io la domanda spero che tu l'abbia capito allora più o meno sì infatti non so se sia previsto anche l'intervento dal pubblico no mirco no allora io voglio anche essere molto pratico in questa chiacchierata assieme nel far vedere cosa reputo essere efficace o meno perché come dicevi tu prima e mi piace citare sempre william deming alla fine senza dati siamo solo persone con una nostra opinione no quindi mi piace anche avere dei dati e dire i centri commerciali sono meno presenti allora io generalmente che cosa faccio faccio una cosa molto semplice apro una casella in incognito che quindi ripulisca il più possibile i miei cookie di navigazione i miei comportamenti espressi attraverso le mie navigazioni precedenti entro qua e vado subito a cercare attraverso google subito a cercare quelli che possono essere i centri commerciali no e quindi dico ma i centri commerciali stanno pubblicizzando oppure no vicino a casa mia si vedo subito che vedi non ci sono pubblicità e dico ma allora mi viene subito da dire che non stanno puntando molto poi ti dice beh c'è il covid c'è la zona rossa è chiaro che non generano traffico sul non vogliono generare traffico diceva bene però io mi aspetterei che comunque generassero dell'interesse sui loro siti dove possono dire qual è la loro politica oggi a livello pandemico possono raccogliere indirizzi possono ricontattarmi quando riapriranno ecco qua non vedo assolutamente nulla allora dico andiamo a vedere un in generale no prima vedere non so rinascendo dicendo rinascendo cosa fa ecco rinascente comunque seppur stia vivendo i problemi che hanno tutti quanti di fatto sta facendo una campagna e di fatto si sta mostrando quindi cosa pensi i centri commerciali io credo che in generale siano un po' incastrati tra la necessità di generare gran traffico presso le loro superfici che oggi sono chiuse dall'altra anche la possibilità di spostare parte di questo traffico online non per cannibalizzare le vendite a livello fisico ma anche solo per comunicare comunicare quello che sta succedendo e raccogliere occasioni di di dialogo diretto quindi questo è quella risposta che mi sentirei di di dare alla vigna quindi partite dai dati sicuramente sicuramente questo momento in cui anche semplicemente sapere se è aperto o no un centro è fondamentale quindi una strategia di advertising può essere utilizzata anche per comunicare non necessariamente la vendita di un prodotto ma anche altre informazioni no spesso ci chiediamo ma sarà aperto questo questo posto o no e non lo sappiamo proprio perché è difficile ci aiuta google in questo in questo modo allora abbiamo invece la domanda di giulia che su instagram ti ha fatto questa domanda qual è la migliore strategia per le campagne di social awareness anche qui io mi lascio a te la comprensione della domanda se hai capito cosa significa sì anche qui provo a interpretare questo questo potranno parlarne tranquillamente un paio d'ore come abbiamo fatto anche in passato ma miglior strategia diciamo che non c'è la miglior strategia dipende come sempre dal tuo obiettivo che qui è espresso in termini di awareness dipende dal prodotto dipende da quanto è conosciuto o meno il tuo brand quanta la tua categoria è conosciuta o meno diciamo che instagram è particolarmente indicato per tutti quei brand un po ispirazionali quindi il lifestyle il beauty il fashion ci sono mondi ovviamente il mondo del b2b i mondi dove anche il tempo necessario per prendere decisione si detende ad ampliarsi e sappiamo che su instagram fanno più fatica quindi punto numero uno è quanto il mio brand è compatibile oggi con instagram e anche qui possiamo farci fatti degli altri guardando cosa succede a livello di advertising e tornati magari facciamo vedere una demo dall'altro nel momento in cui decidiamo di andare su instagram dobbiamo capire come sviluppare il nostro racconto lo voglio fare per partire in maniera più generica e quindi dire parto in maniera più generica e poi inizio a comunicare in maniera più specifica il mio prodotto la mia offerta e i miei valori rispetto a coloro che hanno interagito in precedenza quindi in altri termini ti direi di generare dei pubblici diversi quindi parti alta la logica di upper funnel mostrando a tutti il tuo prodotto servizio e capisci creando delle custom audience coloro che hanno reagito e a loro magari inizia a raccontare un dettaglio maggiore fino arrivare ai messaggi più legati proprio al singolo prodotto singola offerta dove magari esponi anche il tuo il tuo prezzo e volendo fai anche del retargeting quindi il punto è le persone si collegano a instagram ai social con aspettative diverse in momenti diversi tu dovresti grazie ai dati ancora una volta capire chi è veramente interessato e chi è meno interessato e riproporre un secondo e un terzo messaggio a coloro che man mano scendono lungo il famoso funnel e mostrano sempre più interesse io dico sempre non è che se tu in mezzo alla strada vedi una persona e dici subito ciao sono marco mi vuoi sposare no tu ti presenti ti fai conoscere racconti perché pensi di essere più bello più bravo degli altri e alla fine se c'è interesse reciproco vai vai al sodo col fidanzamento e il matrimonio stessa cosa dovremmo farlo sui social non è che dici ciao sono marco compra il mio libro perché sono il più figo di tutti no ciao sono marco se ti interessa vado avanti vado avanti vado avanti al secondo o terzo messaggio allora inizio a essere sempre più esplicito con la mia comunicazione ci sono tante domande proprio in questa in questa direzione su quelle che sono le strategie più più sodio di advertising più social mi è venuta in mente una domanda te la faccio prima di continuare con quelle degli altri ho visto spesso che qualche qualche servizio qualche azienda utilizza delle delle campagne di ads senza avere l'account social di riferimento ho visto su instagram diverse volte questa strategia ovvero ti trovi di ti trovi un annuncio ma poi non c'è non c'è nessun account social dietro no c'è solo una un fondamentalmente una un rimando al sito al dell'azienda no io trovo questa strategia come dire poco rassicurante per per me come consumatore cosa ne pensi cioè secondo te l'advertising social deve avere un suo col tra contraltare il social media marketing o anche no cioè non è non è detto che voglio dire non c'è bisogno di investire su una strategia diciamo di social media marketing collegata alla advertising guarda e questo è un tema di battuta è un tema di battuto soprattutto negli ultimi tempi esattamente come dici tu ma quanto oggi un brand debba avere una linea editoriale di un certo tipo usare i social solo come un grande canale televisivo e allora quello che volevo farvi vedere e di nuovo non c'è non c'è la risposta più o meno giusta io dico sempre guardiamo cosa fanno gli altri prendiamo le nostre le nostre decisioni guardate qua così do anche un altro tip non stai più condividendo lo schermo sto mostrando adesso allora io dico vediamo nike dici nike cavolo cioè sicuramente ha qualcosa da dire a livello social nike con 34 milioni 35 quasi milioni di fan l'ultima volta che ha postato a livello organico è stato il 28 gennaio 2018 e dici cos'è nike allora abbandonato il social no allora non è che siamo bravi e non ci fermiamo alle alle prime evidenze clicchiamo su page transparency e vediamo qua sotto che abbiamo il nostro go to add library ok scusa ci faremi dove l'hai visto transparency allora sotto page transparency aspetta lo rifaccio rivedere qua page transparency dopo che emerge analitica facebook ha detto qui non possiamo ragionare solamente sempre in dark ma dobbiamo mostrare che quali pubblicità stiamo rivolgendo a chi e quindi hanno introdotto questo strumento già da un paio d'anni almeno che ci mostra attraverso l'add library che cosa stanno pubblicizzando in questo momento l'add library lo conoscevo ma non avevo mai visto che si trovava su quella esatto si può arrivare da qua facebook.com slash slash library oppure direttamente dalla pagina poi la page transparency ci dice anche quando hanno cambiato nome le pagine quanti le amministrano e via dicendo allora quello che voglio dire è una visione distratta ci giudicherebbe male nike dicendo uscita da facebook no nike c'è su facebook e guardate quanto è presente cioè sta facendo pubblicità tutti i giorni praticamente e qua vediamo anche cosa sta comunicando a chi vedete quante ad diverse ha nel mostrare anche soggetti diversi focalizzandosi più sulla persona più sul prodotto su prodotti quindi il senso era è chiaro che se una persona entra e ha un contenuto editoriale da rafforza la comunicazione però ci mostra anche che ci sono anche linee un po più diciamo un po più nette dice io l'engagement me lo costruisco soprattutto su instagram e uso facebook come grande canale di rich esclusivamente come un canale pubblicitario bene male poi questo che vi dico giudicatelo voi però rispetto al passato e questo lo dice anche facebook c'è un po meno la necessità di creare engagement ma c'è più l'opportunità magari di colpire grandi pubblici poi come come dicevo prima è chiaro che se tu colpisci un pubblico questo pubblico non ti conosce fai fatica e sappiamo che la costruzione di engagement e comunque di una propria racconta a casa propria con la linea editoriale ti può aiutare ma infatti ma probabilmente negli stessi annunci che stai mostrando alcuni sono più editoriali ed altri sono più di prodotto perché vedo che da una parte non ci sono dei soggetti più come dire non direttamente legati al prodotto perlomeno non inizialmente degli altri sono proprio dei veri e propri propri retargeting su su alcuni prodotti specifici o come dire degli annunci di prodotto che vanno su pubblici più consapevoli rispetto a quella vedo la felpa la scarpa e quell'altro vedo che member days è probabilmente un annuncio legato forse a una community una tribe di a un programma fedeltà probabilmente o come la leggo io qua leggo itunes apple quindi probabilmente ci sarà un podcast un contenuto che si può cioè quello che stiamo imparando e quello che diciamo anche all'inizio mirko dobbiamo essere sempre meno verticali e sempre più trasversali nel proporre un contenuto vedi loro partono da facebook dicendo guarda che c'è un contenuto per te su itunes ed è lì che dobbiamo essere anche flessibili nel modo in cui comunichiamo quindi non solo la mia linea editoriale da tre post a settimana ma magari ne faccio meno ci metto subito il budget e faccio atterrare le persone non solo nel mio sito come dicevi tu prima ma vedi ma anche da altre parti qui alterna contenuti da itunes con la scarpa in offerta sul sito ecco qui bisogna bisogna poi capire bene di nuovo osservare bene cosa fanno gli altri e dire ho n ho 5 6 7 esempi quindi la mia strategia la costruisco in questo modo sì benissimo invece c'è una domanda di davide mollica che invece ci dice eccola qua che lui sta seguendo il corso quindi advertising boss lo sta facendo bravo sta studiando davide e dice ti fa la domanda appunto in riferimento alla targettizzazione delle campagne tu dici di impostare una campagna con target aperto in modo da valutare quali sono le tipologie di utenti più attratte e a prescindere dai risultati dell'analisi preliminare cosa intendi cosa intendi con target aperto sì allora noi abbiamo la straordinaria opportunità sul digitale in generale in particolare su facebook di sapere vita morte miracoli delle persone no e quello spione di facebook questi dati ce li mette a disposizione per fare le nostre campagne quindi quello che racconto nel libro nel corso è voi immaginate all'inizio quali sono cioè studiate bene quali sono i vostri target e definite una campagna che sia targettizzata però quello che dico anche non abbiamo la presunzione di sapere tutto subito quindi alle volte può anche essere utile se magari la prima campagna se un brand nuovo se non abbiamo raccolto delle evidenze in passato può essere utile lanciare una campagna in maniera un po più ampia quindi non dico di rivolgerla a tutti i 36 milioni di utenti di facebook in italia ma dico ristringiamolo un pochino meno e scopriamo via via quali sono gli interessi che stanno emergendo e come lo facciamo quali sono le caratteristiche sociodemografiche quali sono le regioni da cui si stanno da cui stanno interagendo le persone quindi un esempio è questa campagna che adesso è online è online già da tempo io clicco vedo view charts ed è facebook che mi racconta quali sono le caratteristiche vedo il demographics ma ce la vuoi mostrare marco è riservato non lo puoi fare no no sto mostrando eccola qua scusate adesso ce la sta ritorno indietro perché ritorno indietro noi abbiamo la nostra ma è una micro campagna per dire poi anche con due euro al giorno si possono fare quindi vado qua su view charts sì e mi fa vedere quali sono le i demographics che sto raggiungendo dico ma se devo vendere un certo prodotto mi devo rivolgere un target più maturo o meno maturo più uomo più donna più facebook più instagram quindi se si parte ampio eh beh qua vedo che c'è una bella dominanza femminile no? esatto esattamente quindi io onestamente non l'avrei pensato qua si tratta di una villetta addirittura avrei detto 50 e 50 invece in questo caso sta generando più interesse presso le donne e guardate anche la differenza nel 25 e 34 il pubblico è un pochino più bilanciato e si va a divaricare nel 45 e 54 che poi magari sono anche quelli che hanno il maggior potere d'acquisto no? quindi io intendo esattamente questo io avrei pensato facciamo 50 e 50 ma in questo caso ci sta mostrando un'altra cosa quindi vuol dire che magari in corso d'opera tu rivedi il budget e lo vai ad allocare maggiormente sulle donne lo vai a scaricare un pochino sugli uomini e o magari cambi anche le immagini cioè l'ideale sarebbe a questo punto fare due campagne uno con immagini di donne e un'altra con immagini di uomini caricare un po' più il budget sulle immagini delle donne un pochino meno sulle immagini degli uomini ecco questo è un esempio pratico per dire è giusto avere delle ipotesi iniziali ma poi è giusto in corso d'opera riuscire a bilanciare queste queste ipotesi qua non mi dice molto sui network perché l'avevamo già visto in passato che comunque attraeva ancora molto su facebook inizialmente mi son detto attrarrà di più su instagram invece no però qua avevo già corretto il tiro no? però finché non partiamo queste evidenze non si riescono a raccogliere quindi intendevo questo chiarissimo chiarissimo insomma questo è il grande vantaggio del digital marketing no? che hai sott'occhio come dire i risultati in corsa e puoi modificare il tiro puoi aggiustare il tiro no? cosa che non avviene con i mezzi tradizionali allora la domanda invece di di Lorenzo Murnigotti che ci ha scritto penso anche lui su su instagram Lorenzo ci chiede per l'analisi del target in ottica di promozione di un e-commerce riservato al B2B quali tool suggerisci? facebook audience insight mi sembra poco preciso in proposito corretto è corretto perché diciamo il problema tra virgolette del B2B è che noi attraverso i social raccontiamo tutto quello che facciamo ma principalmente sui social noi raccontiamo la nostra vita privata non tanto la nostra vita professionale da qui facebook audience insights fa più fatica a ricostruire il nostro profilo ho detto che facebook audience insights il profilo lo ha ma oggettivamente il profilo professionale lo ha ma oggettivamente i numeri sono limitati quindi non ci dice chissà che allora anche qui quando i dati non ci sono createli createli come li createli? createli con delle campagne quello che volevo mostrare vediamo se si vede ancora lo schermo si dovrebbe vedere tra 3, 2, 1 via ecco lo schermo possiamo fare due cose ancora una volta tu parti ampio come abbiamo detto un attimo fa e quindi qua vediamo subito vediamo subito l'aspetto di google ads quindi prima vediamo facebook abbiamo detto con facebook facciamo un pochino più di fatica ma inseriamo anche google ads e quando tu lanci una campagna google ads quello spione di google ti mostra ancora una volta quali sono i soggetti che stanno reagendo di più alle tue campagne quindi qua ancora una volta ti sta mostrando quali sono i uomini e donne a cui vengono rivolte maggiormente le impression quindi quelle più in target e di nuovo la fascia centrale tanto non so perché casualmente ho preso prima una villetta e adesso un appartamento in centro a Milano questa deriva sull'immobiliare è totalmente casuale ma ci fa vedere che abbiamo uomo-donna nelle fasce centrali e fasce anche un po' più mature e ci sta perché vuol dire stiamo parlando di un appartamento in centro a Milano che non è proprio così un prodotto di impulso ma quello che notiamo è anche che il CTR al di là del mostrare il nostro contenuto vediamo chi sta cliccando e vediamo che click sì c'è ancora la fascia centrale ma se vogliamo si stanno allargando anche alle altre fasce quindi per dire che cosa? che non dobbiamo puntare solamente su questo pubblico ma sappiamo che gli altri potrebbero reagire ugualmente poi se andiamo nel dettaglio possiamo vedere quali sono poi le ricerche che concretamente stanno facendo le persone e al seguito di queste ricerche cliccano sui nostri annunci quindi questi sono tutti insight sono tutte delle informazioni che possiamo usare per affinare meglio la nostra offerta sull'e-commerce il nostro targeting ma legato di fatto alla ricerca vera e propria come leggiamo questi aspetti? quando gli utenti fanno una ricerca ufficio vendita a Milano vendita appartamento a Milano centro noi compariamo compariamo tante volte e risultiamo essere credibili per quanto riguarda la nostra offerta quindi che cosa stiamo vedendo? prima Facebook lanciamo la campagna vediamo chi reagisce due facciamo anche lato Google Ads e vediamo concretamente le persone perché stanno cliccando e stanno entrando a casa nostra e che profilano le persone e da dove si collegano quindi vedete che anche qual è il giorno in cui cliccano di più e l'ora in cui cliccano di più quindi questo ci dà la possibilità di andare a ottimizzare anche le nostre attività le nostre campagne a livello di contenuti colgo anche l'occasione per mostrare LinkedIn LinkedIn che è il social network dei professionisti non ci dà la profondità di analisi che ci dà Facebook audience insights però volendo nel momento in cui generiamo una campagna in questo caso di brand awareness ci dice a livello di audience chi vogliamo targettizzare noi qua impostiamo audience e vediamo per esempio scusate audience attributes vediamo vogliamo parlare a coloro che vediamo un attimo job experience hanno lavorato non so nel marketing andiamoci a prendere il marketing ok ma che formanno le persone che lavorano nel marketing in Italia e allora LinkedIn detto che ci dice che sono 200.000 ma l'aspetto interessante è questo ci dice guarda lavorano nel marketing poi lavorano anche nel media nelle vendite nel business development arts and design 9% piuttosto che vediamo la seniority vedi una seniority comunque sia senior ma anche entry quindi abbastanza detto che il marketing è un tema abbastanza generico e lo vediamo anche qui direttori 12% proprietari 5% da quanto lavorano le persone che dichiarano lavorare nel marketing oltre 12 anni 5 anni e via dicendo ecco non è il dettaglio di Facebook o dei Sinsights ma se notate qualche genere di clusterizzazione qua iniziamo a farla ma sono persone che lavorano nelle grandi aziende vedi tendenzialmente no sono dai 10.000 employee in su sono il 23% quindi sono molte anche in micro imprese e imprese medie e quindi questo diciamo è un altro ragionamento che facciamo e via dicendo il punto è ci sono tanti dati in giro e l'obiettivo è capire cosa posso recuperare da quale piattaforma per potermi poi orientare per poter poi orientare al meglio la nostra offerta la nostra campagna potrei prendere dei dati da una piattaforma e poi utilizzarli su un'altra i ragionamenti che faccio assolutamente assolutamente e poi sono tutti gratis infatti sono a nostra disposizione ripeto non è preciso come Facebook Adense Insights ma il mondo B2B ahimè è abbastanza complicato da investigare gratuitamente in poche ore o pochi minuti certo certo poi comunque ci sono dei strumenti a pagamento di LinkedIn insomma che esatto in questo caso è gratuito in questo è gratuito poi ovviamente ci sono quelli a pagamento allora c'è una domanda di Carla Laimolè qua che è arrivata su YouTube ciao Carla e Carla ci dice che sta preparando un piano editoriale per un'agenzia di viaggi lombarda e nonostante il lockdown vuole investire in Facebook Ads sembra una buona una buona strategia considerando adesso il deserto che c'è intorno ho previsto tre post a settimana di cui uno sponsorizzato hai qualche suggerimento? ma allora sì è un po' simile al discorso del centro commerciale noi abbiamo visto al termine del primo lockdown che c'è stato un rimbalzo cioè la gente ha questo fenomeno del revenge shopping revenge traveling cioè non appena si può la gente che comunque ha risparmiato molti voglio dire hanno risparmiato hanno il desiderio di tornare a viaggiare e tornare a spendere io cosa farei? io manterrei vivo l'attenzione sulla nostra offerta in questo caso i viaggi ma accoglierei l'occasione per chiedere agli utenti di rimanere in contatto quindi come attraverso le loro email e o in generale trovare il modo di agganciarli diventando follower del mio canale proprio perché nel momento in cui si riaprirà la possibilità di viaggiare noi saremo lì pronti li ritroveremo grazie alle email grazie al fatto che ci hanno seguito e racconteremo subito cosa possiamo far per loro quindi ti consiglierei di comunicare ma comunicare con l'obiettivo di portarti a casa i loro dati da riattivare non appena abbiamo prospettive sul rientro questo per essere molto hard poi a livello soft man mano e qua passiamo al tema del CRM a me molto caro sempre a livello di newsletter c'è il discorso del nurturing cioè mantieni viva l'attenzione con dei contenuti tra l'altro notizia di ieri che è stata anche raccontata da voi su Ninja Morning anche Facebook così come LinkedIn ha introdotto sta introducendo le sue newsletter quindi i newsletter che erano state date per morte di fatto tornano a vivere una seconda primavera con con dei dei tool dedicati quindi lo potranno essere mandati immagino solo ai follower della pagina o a chi si iscrive direttamente proprio a quella newsletter esatto esatto però in generale il consiglio che do a tutti è valorizziamo ogni contatto e con la proposta di contenuto di offerta di interazione chiediamo i dati credo che a livello editoriale poi si sposi perfettamente con la strategia di advertising quindi tornando a quello che abbiamo detto prima offrire prima un contenuto utile prima di proporre un'offerta commerciale qualunque tipo sia può essere anche se uno vuole viaggiare per esempio adesso deve capire per esempio quali sono tutti gli aspetti tecnici tampone cosa deve fare il passaporto se si può entrare o non si può entrare che quarantena cioè già districarsi tra tutte queste informazioni può essere un contenuto molto utile proposto da un'agenzia di viaggi per esempio esatto ma infatti Carla poi vedevo che aggiungeva dicendo il mio obiettivo è proprio quello di raccogliere contatti è assolutamente vedete abbiamo preceduto ma per dire che è corretto ma il consiglio che mi sento di darti è non acquisire contatti dicendo scopri subito e scriviti alla newsletter ma come diceva Mirko è se ti registri sarai il primo a conoscere le novità di carattere normativo i consigli l'assicurazione le mete se vai all'estero posso rientrare o no rimango incastrato sull'isola deserta cioè interpreta le domande che si possono fare le persone nel momento in cui dicono viaggio o non viaggio e quindi l'acquisizione del contatto deve essere orientata al dare un qualcosa in cambio ovvero del contenuto utile sì noi li chiamiamo pain adesso qua nel nostro marketing team e sono proprio quelle cose che creano in qualche modo frustrazione nel pubblico e a cui noi possiamo rispondere in qualche modo a proposito di c'è Enrico invece Salduti il nostro Enrico Salduti che ti fa una domanda per un nuovo prodotto B2B va bene fare prospecting con una search di Google e remarketing retargeting con display e Facebook sì la risposta è sì dico sempre in generale se voi partite dalla search non sbagliate perché in generale la search è il momento in cui noi tutti diciamo a quello spione di Google di Amazon di Bing che abbiamo un problema o un'opportunità o stanno cercando un prodotto e se noi ci siamo con la nostra sponsor ads male non facciamo quindi in questo caso l'idea è io interpreto cerco di dare risposta a un tuo bisogno genero traffico sulla pagina creo queste audience attraverso cui poter fare del retargeting quindi ricomunicare loro con un banner o con un post su Facebook o anche con un video quindi assolutamente sì di nuovo il B2B è difficile perché la definizione del profilo B2B è più articolata quindi se voi lo fate al contrario io non so a priori chi cliccherà ma a posteriori lo rinseguo con la mia pubblicità allora come dice Enrico può essere assolutamente una strategia utile quindi sì abbiamo Edit Torino invece che ci dice ecco questo è un tema no come faccio a capire quando è arrivato il momento di cambiare creatività e copy in una campagna always on ok questa mi piace perché un altro piccolo spunto parlando di orizzontalità come sai nell'agenzia gestiamo anche la pubblicità televisiva e quello è il fenomeno del del burnout no cioè dopo un po' di volte in cui vedi la stessa pubblicità in tv le persone tendono a non riconoscerla più perde efficacia e quindi è il momento di cambiarla ecco queste valutazioni sul digitale si possono fare e lo vedi per due motivi nel corso della campagna il cpm quindi il costo per raggiungere mille utenti per generare diciamo per rilasciare mille impression tenderà ad alzarsi e il tasso di interazione di click tenderà a caleare proprio perché le persone si staranno abituando a quella pubblicità e non saranno più interessate non essendo più interessate facebook ti farà pagare di più per raggiungerle anche perché man mano che sei always on il tuo pubblico si abituerà e è quel momento in cui devi assolutamente cambiare la tua creatività te lo dicono i numeri cpm aumenta ctr cala io aggiungo una cosa diciamo tratta dall'esperienza io consiglio sempre sono proprio la base le regole dell'advertising della pubblicità bisogna sempre dare un contenuto di novità qualunque cosa sia anche se è la stessa cosa che stiamo riproponendola per l'ennesima volta il fatto di essere nuovo una versione aggiornata un qualcosa di diverso o anche semplicemente cambiare la creatività il visual il key visual i testimonial è secondo me uno degli elementi fondamentali del successo di un lancio o di un rilancio di un prodotto perché le persone si appassionano ovviamente alle cose nuove e si stancano delle cose che hanno già visto che sanno di vecchio di qualcosa che è già già noto quindi questa è una capacità della creativa e credo che anche nell'advertising sia fondamentale questo rinnovare e cercare sempre un tratto distintivo un visual distintivo che non stanchi esattamente proprio la cosa bella della creatività oggi digitale è che grazie ai dati può avere anche delle conferme esattamente come dicevi tu se guardo i numeri e vedo che l'interesse cala perché diminuiscono le interazioni diminuiscono ovviamente gli acquisti ma aumentano anche i costi per raggiungere le persone vedi il cpm abbiamo la prova provata che è il momento di cambiare il nostro contenuto quindi l'altro consiglio che do in questo caso più ai creativi imparare a leggere i dati perché la vostra creatività può essere ancora più efficace grazie a una lettura oggettiva dei fenomeni quindi non è meglio uno o l'altro auspichiamo sempre un bel matrimonio tra dati e creatività e poi sono un pessimo creativo quindi guardo molto io invece sono c'ho sempre questa filosofia non so se la conosci noi in ninja utilizziamo una regola molto semplice per capire ciò che è buono da ciò che va bucciato non so se frequenti un po' Roma e conosci la differenza tra sti cazzi e me coioni ho visto un bellissimo video esatto di qualche tempo fa Lara Simoniello ci chiede dove puoi trovare il corso nei commenti pubblichiamo sicuramente ancora la landing page comunque se vai su ninjaacademy.it lo trovi lo trovi in tra i corsi tra i corsi in vendita sono sono solo 12 quindi più l'executing master più due master quindi lo troverai sicuramente advertising boss allora e quindi insomma tornando a noi quando una cosa tu la guardi e fa sti cazzi cioè no e quindi e quindi c'è nel senso non è non è niente di eccezionale se invece tu la guardi e dici me coioni cioè ti fa no in qualche modo allora vuol dire che avete centrato l'insieme è una semplice regoletta che secondo me si può applicare a qualunque contesto qualunque infatti c'è una domanda che riguarda proprio il branded content ci dice questa domanda di Tommaso quando è utile sfruttare i branded content e come renderli davvero efficaci immagino che con il branded content intendo un po' prodotti editoriali quindi non finalizzati direttamente alla vendita sì allora questa domanda veramente da un milione di euro perché anche a livello agenzia siamo lì sempre nel trovare le correlazioni e le relazioni causo effetto tra esposizioni e riscontri del pubblico e lì si fa un po' più fatica quindi perché si fa più fatica perché sei a casa di altri magari vedi altri numeri ci sono altre dinamiche che tu non riesci a padroneggiare e quindi in termini pratici come fare allora io dico sempre partite dalle cose che potete governare voi quindi diventate bravi nell'utilizzo dei social a pagamento nell'utilizzo della search del video e dei canali di advertising dove capite anche quanto vi sta costando raggiungere le persone generare interesse attorno a un contenuto fino a ospicabilmente anche ottenere una vendita per chi di voi ha un e-commerce poi quando sarete cinture nere di quelle discipline allora potrete provare anche altre cose vedi il branded content il branded content è particolarmente adatto per la costruzione della famosa consideration cioè quando voi parlate di voi stessi ovviamente state facendo pubblicità ed è autoreferenziato e ci sta è normale nulla di scorretto quando sono gli altri che parlano di voi capite che e soprattutto se sono soggetti autorevoli anche il vostro brand il vostro prodotto e servizio acquisisce credibilità quindi noi lo suggeriamo proprio in questa logica sì ti conosco mi hai spammato di pubblicità e il brand ho capito chi è cosa fa ma grazie al branded content molto spesso si crea questa autorevolezza se sono gli altri che lo raccontano e sono soggetti credibili quindi non è la marchettata e basta ma decidono di ospitare un racconto che parla di un altro brand e quindi lo fanno perché ci credono anche a loro volta il brand stesso ne acquisisce ne acquisisce benefici ti dico è un po' più difficile poi da misurare il tutto perché di misurazione continuiamo a parlare ma noi lo utilizziamo soprattutto in quella logica tu hai fatto il tuo adesso di parte del racconto agli altri quando parli di altri parli di editori di influencer tutte e due esatto arrivavo lì quindi l'editore quindi diversi editori poi lo dichiarano perché vuol dire poi legalmente lo devi dichiarare con contenuto sponsorizzato ma magari siamo noi un po' più diciamo dentro al settore che ci facciamo spesso qualche problema sponsorizzato dal brand tal dettaglio ma onestamente le persone questi problemi non se li fanno dicono vabbè e quindi non è che se lo sponsorizza il brand non sarà un discorso obiettivo o non saranno cose reali quindi sì sono gli editori che promuovono insieme a brand dei contenuti li fanno poi voglio dire Mirko tu lo sai benissimo anche perché è una delle leve di ninja marketing no? ninja marketing come tanti altri ma si scrivono delle storie assieme e si dà credibilità a un prodotto o un servizio poi tu da editori mi immagino faccio anche valutazioni se è il caso o no di parlare di certi brand certi prodotti certi servizi quindi certo è lì la stessa cosa influencer e creator ci sono influencer che dicono di sì a tutto e secondo me nel medio e lungo termine poi rischiano di perdere credibilità e influencer e creator che invece sono giustamente selettivi dicono io credo in quello che mi chiedi di promuovere lo faccio o non lo faccio secondo me questi fenomeni ma già lo stiamo vedendo nel tempo si autoregolano si autoregolano quindi brand che non hanno la credibilità all'inizio poi non hanno grande vita quindi magari ti scappa il branded content ma poi non avrà più successo non avrà più interesse certo se posso aggiungere qualcosa alla domanda per renderli efficaci innanzitutto devono essere ben ben progettati e ricordiamoci sempre che un buon branded content in generale qualunque questo sia che sia un video che sia un'intervista qualunque cosa deve entrare nella logica di piacere al pubblico cioè l'errore di fare il branded content facendo advertising non è branded content il branded content è per sua definizione entertainment o un discorso di utilità che in qualche modo è sponsorizzato dalla marca ma è un contenuto editoriale in quanto contenuto diciamo editoriale si rivolge al pubblico ecco entra nella logica del pubblico il branded content può anche essere qualcosa che non parli direttamente della marca ma che sia appunto come diceva Marco sponsorizzato dalla marca può essere una rubrica che parla di tante cose anche che fanno parte del mondo di riferimento su cui si vuole posizionare la marca ma che non sono necessariamente realizzate dal brand ecco questo è importante invece a volte si confonde nei team marketing anche nelle agenzie e si cade nel discorso nel discorso sti cazzi ma appunto se non è rilevante se non è rilevante non è branded content esatto questo è il concetto sì perché poi chiami il giornalista e dici no ma non hai detto questo e non hai detto questo il mio capo so chiamerebbe leggere questo vorrebbe la marchetta con quella dichiarazione eh ma se quel creator diciamo quel giornalista in questo caso non considera quella cosa di utilità o di interesse per il pubblico forse dobbiamo ascoltare lui perché effettivamente lui conosce l'audience meglio del brand perché se no lo fai tu e ti fai un bel contenuto sul tuo sito e fai una bella campagna che genera traffico sul tuo sito che dico va bene si chiama pubblico redazionale quello si chiama pubblico redazionale è un'altra cosa che è una pubblicità travestita oppure dicevo lo fai proprio a casa tua nel sito del brand e se tu che parli dico va bene però quando fai il branded content devi delegare e parte dai racconti agli altri se no non farlo e continua a generare traffico a casa tua esatto allora Emy che io vedo che l'ha scritto nel gruppo Facebook qua non viene fuori il suo nome ci chiede vabbè quanto questo corso può aiutare che saluto ciao Emy quanto può essere utile a costruire campagne social efficace e saperle analizzare beh sì dire di sì diciamo che non è il momento in cui dire no 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 non farlo no chiaramente sì ci tengo a ribadire una cosa non è un corso solo su Facebook e sui social ma è un corso e un libro che vi aiutano a ragionare a tutto tondo cioè deve essere a chi devo parlare cosa dico di rilevante rispetto ai miei concorrenti come analizzo la concorrenza come utilizzo il social anche in un piano più esteso quindi sì non c'è solo il social ma c'è il social insieme ad altri contenuti quindi non è una monografia sui social ma ti racconto i social in un contesto più ampio sì anche perché la frase che hai utilizzato poi nella nella quarta di copertina dice fondamentalmente la pubblicità è sempre esistita no cioè parliamo di dinamiche che ci sono sempre state che adesso si applicano con nuovi strumenti e quello è un po' il no il trade union tra l'advertising e il digital advertising cambiano gli strumenti cambiano le modalità ma le dinamiche alla base sono le stesse esattamente Maria Elena come capisco se il mio contenuto promozionale ha raggiunto risultati rilevanti? eh bella domanda sì allora qui era diciamo che partiamo sempre dalla fine riuscivi a vendere hai venduto quindi passo anche a livello banale no talvolta do messaggi banali ma partiamo dalla fine hai venduto sì no se sì vuol dire che è andata male bene se no è andata male dici ma io non vendo non posso tracciarlo allora risali lungo il funnel se non puoi vendere direttamente o tracciare la vendita capisci se hai generato traffico hai generato traffico di qualità quindi questa campagna rispetto al passato rispetto ai tuoi concorrenti ha generato più click meno click più visite meno visite tempo speso maggiore o minore un altro strumento che consiglio sempre di guardare è SimilarWeb SimilarWeb vi mostra i dati dei siti dei vostri concorrenti i siti abbastanza trafficati ed è 15.000 visite in su e lì vi mostra anche il tempo speso quindi datevi quello magari come come benchmark io genero una campagna se il mio concorrente tipicamente ottiene un minuto e mezzo di navigazione media io punterò a ottenere quel valore quindi per dire è stato efficace o meno tu ti dà degli obiettivi e capisci se le hai ottenuti oppure no e poi soprattutto crea varie campagne cioè nella campagna l'altro errore che tipicamente si fa ho un messaggio un annuncio un'immagine e delego solamente quei contenuti tutta l'efficacia della campagna non va bene dovete crearne di più e mettere in concorrenza anche i vostri contenuti i vostri messaggi per capire cosa sta andando meglio o peggio cosa interessa più o meno alle persone quindi questo è fondamentale quindi conversioni visite visite di qualità e risalire click e impression adesso si stanno scaldando i nostri i nostri digital spettatori e quindi cominciano ad arrivare adesso domande a rafrica dai lo rispondiamo ancora un paio poi sono già quasi un'ora che siamo passate nella fase di costruzione della brand awareness i social possono essere utili nella fase di costruzione della brand awareness assolutamente sì anche qui io dico sempre dobbiamo ragionare con i limiti fisiologici dello strumento cioè alla fine deleghiamo a uno schermo fatto così e quindi sappiamo che là dentro dobbiamo rimanere e soprattutto con un utente che continua a scorrere dall'alto verso il basso quindi devi essere veramente rilevante nel cogliere l'attenzione del tuo utente e se ce la fai riuscirai a costruire la brand awareness poi ci sono dei settori che sono più indicati appunto vedi su Instagram il mondo del beauty la cosmetica il fashion il lifestyle il food e ci sono dei mondi dove oggettivamente fa un pochino più di fatica anche qui il consiglio è prova e vedi che risultati hai però e se puoi magari stendi anche parte della costruzione dell'awareness al video su piattaforme video youtube e altre e di nuovo non trascurate comunque la search perché se l'awareness funziona rimane in testa la persona il brand prodotto servizio a un certo punto le persone vi cercheranno e vi dovranno trovare quindi non usate sempre solo uno strumento per cogliere un obiettivo perché poi le persone di fatto fanno un percorso e voi dovete essere presenti lungo questo percorso in momenti diversi con strumenti diversi allora io adesso chiedo alla regia di mandare le domande che chiedo perché se no si manda tutte le domande non ce la facciamo allora aggiungo una cosa a quello che ha detto Marco sulla brand awareness a volte si fa proprio l'errore di dare per scontato che le aziende sappiano cosa facciamo e io vedo delle campagne molto martellanti soprattutto su youtube che sono veramente delle persecuzioni alla fine se ci penso non capisco neanche non mi ricordo neanche che cosa volessero dire quindi forse stanno buttando via dei soldi cioè nel senso la prima cosa è definire chi sono e che cosa faccio cioè e questo è la prima il primo passaggio della brand awareness cioè se non so che la tua marca fa salumi cioè passare poi a come dire la vendita del prodotto è un passaggio successivo cioè quando parli di brand awareness significa collegare il tuo visual il tuo brand a quello che fai no? questa è la prima cosa in modo che tu sia top of mind quando pensi a corsi online in digital marketing probabilmente ti viene in mente una ninja academy tra i primi i primi nomi no? questo è è la brand awareness è quindi quando vedi una comunicazione poi di ninja academy la riconosci ok? questa è la prima cosa quindi attenzione perché se saltiamo questo passaggio che ovviamente non si fa anche solo esclusivamente con l'advertising rischiamo poi di essere percepiti come poco poco efficaci nei nostri messaggi perché ma chi sta parlando ma chi è che autorevolezza ha perché mi sta dicendo questa cosa questo è importante allora Marco un paio di domande ancora poi ce n'è una un po' tostino vado quella lì dei 300 corsi residenziali vuoi quella o vuoi quella come gestiresti una campagna per 300 corsi anni residenziali che in settimana è circa 8 corsi a weekend su quali canali da quello che ho capito come gestiresti un catalogo di corsi di prodotti molto ampio in cui c'è una velocità di timing di realizzazione questo è un po' il concetto questa è una scuola che ha tanti corsi che iniziano e finiscono in tempi molto rapidi sì allora sinteticamente mi immagino che questi corsi siano rivolti a utenti diversi con contenuti diversi quindi sicuramente li segmenterei quindi a chi comunico che cosa quindi metterei a creare una bella batteria una bella matrice di sponsorizzate da un lato e dall'altro di nuovo con la logica del custom audience capirei chi ha interagito quindi chi può essere veramente in target e come raccontare nuovamente a queste persone altri corsi quindi se una persona ha già cliccato sul corso immagino ABC e ho il corso DF che è correlato so che avrò più successo nel momento in cui io lo ripropongo quindi non dobbiamo stalkerare i nostri utenti vedo qui la cadenza settimanale ma rispettandoli e capendo chi è interessato meno se usate i dati le custom audience e il retargeting lo potete fare in maniera efficace partite sempre larghi e poi ristringete il più possibile cercate di segmentare sapendo che ci sono dei contenuti che interessano più alcuni soggetti e altri meno sì la cosa buona appunto che puoi avere tutte le tue campagne che gestisci contemporaneamente anche con un livello di complessità e di temporalità molto molto grande questa è la la cosa la cosa sicuramente più la novità del digital market tutto in autonomia allora io chiuderei con questa domanda Mara Otaiano che ci chiede partendo da zero a livello digitale ma lavorando da anni nel mondo della comunicazione quale può essere il percorso pratico che mi consenta di promuovermi professionalmente in abito digitale allora questa è un'ottima domanda perché come dicevo all'inizio il problema se vogliamo di noi spesso nativi digitali partiamo subito dalla fine abbiamo fatto una bella Instagram story e quindi abbiamo lavorato bene chi conosce la comunicazione sa che ci sono dei principi la copertura e la frequenza i GRP le curve le curve legate alla reach la saturazione quindi sicuramente si parte già avvantaggiati da una parte diciamo da un punto di vista dall'altro bisogna capire che a livello digitale ci sono tantissimi strumenti quindi concretamente a livello pratico io consiglio sempre di fare due cose uno e qui vabbè la marchettata fare i corsi e comprare i libri che parlano di queste cose fare il corso di Marco però quello che dico sempre è attenzione perché la formazione del libro non basta dovete poi cimentarvi allora dici ma io nella mia azienda non ho la possibilità di mettere mani su quel strumento perché è di dominio di un altro piuttosto che non ho un e-commerce allora io consiglio sempre di crearvi un vostro piccolo sito un vostro piccolo project work può essere veramente un blog può essere un qualsiasi contenuto non è tanto non è tanto il contenuto in sé ma è la capacità di prendere di avere dimestichezza con questi strumenti quindi avere il vostro piccolo sito fatto in wordpress riuscire a generare una campagna facebook e google capire concretamente pro e contro degli strumenti alla fine secondo me è un aspetto fondamentale oppure appunto farvi aiutare da chiedere anche ai vostri amici magari piccoli imprenditori freelance micro imprese chiedere loro la possibilità di cimentarvi di dire io te lo faccio anche gratis ma tu dammi del budget e di volta non è che lo butto via ma capiamo insieme come sta andando perché ho studiato queste cose ma finché non le provo di fatto faccio fatica quindi il tema è studiate studiate ma provate a praticare il prima possibile e poi è importante anche come come ci si presenta perché è importante essere con i propri social con un proprio calendario editoriale far vedere che si contribuisce in qualche modo a creare cultura sul tema cioè il posizionamento poi in generale che avete e sui social ricordate che sono spazi pubblici non sono spazi privati social quindi curatele io vedo ragazzi che si muovono molto bene creano un proprio personal brand e magari iniziando anche come dice Marco da lavori più piccoli magari per alberghi ristoranti poi nel tempo crescono e come dire fanno carriera è fondamentale però curare un po' tutto l'aspetto come un qualunque professionista un architetto un avvocato c'è il suo studio e quando accogli i clienti deve dare una certa immagine ecco se noi lavoriamo nel marketing digitale penso che la prima cosa sia allestire bene la nostra presenza online in modo da essere percepiti con con qualità rispetto a quelle che sono le nostre property questo è il primo passaggio sì sì ma ve l'ho mostrato anch'io prima cioè chiaramente non posso far vedere le campagne dell'agenzia che sono dei grandi brand ma come vedete anch'io metto tengo le mani in pasta veramente con campagne da due euro al giorno per amici e conoscenti ovvero per mantenere quella sensibilità al tecnicismo per mantenere viva la conoscenza anche tecnica ecco fa fatelo anche voi ti ringrazio Amara grazie a voi allora io direi insomma che abbiamo detto davvero tante cose e credo sicuramente utili e interessanti ringrazio Marco per la sua partecipazione a questo webinar in generale per il libro che non vedo l'ora di vedere di toccare anch'io anch'io tutti quanti di poter leggere anche chiaramente vi ricordo che ci sono altri appuntamenti il prossimo è con Fabio Di Gaetano il 24 marzo parliamo di di SEO e parliamo di SEO Energy eccoli qua sono tutti i nostri appuntamenti con tutti i sei bellissimi libri quindi poi ci sarà ancora Valentina Turchetti con il content marketing content now il corso ritorniamo con Alessio Pieroni con Growtech il 6 aprile il suo secondo libro il secondo corso di questa collana sempre di Alessio e poi chiudiamo con mercoledì 14 aprile con Fabio Sutto e Marte Quizzar altro tema super fico super caldo che è la marketing l'automation bene un abbraccio a tutti un saluto Marco grazie mille ancora di essere stati con noi a tutti quanti i nostri ascoltatori e fan delle pagine ovviamente seguite Ninja Academy su YouTube iscrivetevi per avere le notizie sui prossimi live e buon appetito e alla prossima puntata ciao ciao grazie ciao a tutti i nostri ascoltatori ciao a tutti i nostri ascoltatori